Sono Daniela Petrosso, lavoro in Banca Mediolanum dal 2004. Ricordo l'inizio con una forte emozione, perché per me è stato un cambiamento sostanziale dal punto di vista lavorativo. Diciamo che in quel momento cercavo qualcosa di diverso, cercavo la possibilità di esprimere meglio la mia professionalità che avevo acquisita in vent'anni nella banca tradizionale e soprattutto il fatto di poter avere un rapporto diretto e autentico con i miei clienti e di poterli anche mantenere nel tempo, che non è una cosa da poco, perché il nostro lavoro è un lavoro di relazione e il fatto di poter mantenere lungamente i rapporti con i clienti ti dà la possibilità di ottenere dei risultati nel tempo, importante per le persone, ma anche di consolidare un rapporto umano. Ho scelto Mediolanum perché è una banca che è orientata al futuro, è una banca dinamica, è una banca dove noi possiamo anche personalizzare il tipo di attività che svolgiamo all'interno di questa struttura e potendo personalizzare l'attività riusciamo sicuramente a esprimere il meglio delle nostre capacità sia personali che professionali. Inoltre, essendo un'azienda che è stata fondata da imprenditori e noi stessi siamo imprenditori, naturalmente respiriamo un'area che è completamente diversa. C'è una grande collaborazione trasversale in tutti i sensi proprio e quindi il fatto anche di avere un'azienda dove in poco tempo posso ottenere delle informazioni veloci, anche informazioni molto delicate, mi posso rapportare direttamente con lo staff, questo mi dà una grande sicurezza. Il mio momento, diciamo, quello più particolare è stato il 2009. In quel momento io ho percepito quanto il team, quanto la famiglia Mediolanum era presente, prima di tutto su di noi consulenti che potevamo essere anche l'elemento debole, diciamo, e questo a noi ha dato una grandissima forza e anche a me personalmente. Cerco di stare vicino ai miei clienti, conoscendo le loro caratteristiche, perché poi ogni cliente ha la propria caratteristica e il proprio grado di emotività. Vicino nella presenza, vicino veramente, quindi cerco di anticipare una telefonata quando serve, cerco di capire soprattutto qual è il loro stato d'animo che stanno vivendo e da quel punto lì puoi partire per fare dei ragionamenti razionali. Questo atteggiamento mi ha sempre permesso di poter superare dei momenti ciclici importanti e di poter aiutare le persone a portare a termine i loro programmi e progetti di investimento. Non posso fare altro che ringraziare i miei clienti per tutta la fiducia che mi hanno dato in questi anni. Penso che abbiano capito veramente che l'attività che svolgo e il rapporto che abbiamo impostato nel tempo è un rapporto oltre che fiduciario, è un rapporto autentico. Devo dire che nel tempo quei riconoscimenti che ti vengono dati, o direttamente o indirettamente, sul valore dell'operato, è il miglior risultato che mi può dare questa attività.